Video speciale 2. Vocabolario, Colori Nero Blu Verde Bianco Viola Grigio Rosso Rosa Giallo Arancia Marrone Facciamo un po' di pratica. Grazie. E' stata una lunga giornata per produrre contenuti per il canale. Mi compreresti un caffè per solo un euro? Visita il link sottostante. Avvertimento. Questi video non sostituiscono una classe con un vero insegnante, sono solo materiali di esercitazione supplementari. Se ti è piaciuto questo video, ti piace, condividerlo con i tuoi amici e familiari e iscriviti al canale.